Un'eccezionale ondata di freddo ha isolato fra barriere di ghiaccio l'isola di Tanger, di rimpetto alle coste del Maryland, mettendo in serio pericolo la vita dei suoi 1500 abitanti. Mentre le navi guardacoste tentavano ad aprirsi in passaggio attraverso le acque rapprese dal gelo, un piccolo dirigibile riusciva ad atterrare sull'isola, con una scorta di viveri bastevole per parecchi giorni. La popolazione, composta esclusivamente di gente dedita alla pesca, accoglieva i soccorsi come una vera manna piovuta dal cielo, proprio quando, dopo due settimane di segregazione dal mondo, vedeva profilarsi lo spettro della morte per fame ed assideramento. Grazie.